Ciao! Ciao! Ci troviamo in Taro. Giornata caldissima. Questo è il primo pesciolone della giornata. Divertentissimo. Come al solito, speriamo che venga fuori. Stiamo facendo tutta. La canna come si piega. Speriamo che abbia voglia di collaborare. Speriamo. 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 Direi che non è male. Speriamo. Speriamo. Mi sembra veramente un bel pesciolino. Sì. Direi che è proprio un bel pesce. Certo. Ok. Al prossimo pesce allora. Certo. Ciao ciao.